A noi abbiamo chiesto una verifica molto approfondita alle autorità tedesche, agli omologatori, sono in contatto con il governo tedesco su questo punto, come sapete loro devono certificare, quindi abbiamo chiesto di sapere quali autovetture sono state potenzialmente esposte a questo inganno, ovviamente faremo di tutto per tutelare la salute dei nostri cittadini ricontrollando i veicoli che ci verranno segnalati, abbiamo fiducia che il governo tedesco farà una inchiesta approfondita.